Terminata questa bellissima finale tra la Renato Curi e la Virtus Castelfrentano Definita, bravi ragazzi, complimenti a tutte e due le squadre della Virtus Castelfrentano della Renato Curi Angolana, che hanno dato vita a una bellissima partita Bravi, un grosso applauso Un grosso applauso Bravi, bravi Bravi, bravi, bravi Una grande partita, giocata anche ad alti ritmi da parte dei nostri ragazzi Ed era Renato Curi Angolana che ha vinto per 5 a 2 Adesso uscidiamo anche la premiazione Per questa categoria dei sordietti Carlo